Oh, aiuto, aiuto! Che succede? Cilenti a te! Non farlo ca... Non cadere! Vieni qua! Ok, brava, un colpo lavò! Diamante! Sì! Oh mio Dio! Non devo morire, non devo morire! E quello l'ho buttato giù, non me ne frega nulla! Allora, allora... Aiuto, aiuto! Ci serve un piano di fuga! E ragazzi, come va? Ciao, io sono Feriniki! E io sono Steph! E che si giocava a Minecraft! E siamo tornati sulla nostra Sky Grand! Nello scorso episodio abbiamo completato la missione della chestplate, ovvero l'armatura del petto in pelle! Abbiamo sistemato la nostra casa facendo qualche miglioria estetica e abbiamo dato il benvenuto al nostro Billy, purtroppo! Questa è la cosa più importante dello scorso episodio! Abbiamo dato il benvenuto a Billy e per di più si è scoperto che le mie canzoni sono efficaci! Quindi ricordalo bene quando canterò di nuovo! Dovrai essere onorata, ok? Non credo proprio! Non credo proprio che andrei in questo modo! Invece sì! Ho notato un'altra cosa prima di iniziare! Dimmi! Hai seguito il consiglio che ti ha dato un consolino, ovvero di levare le fences! Per vedere Billy al meglio è per rendere ancora più palese la tua pazzia, sì! Guardalo! Sì! Io e lui ci amiamo! Lo vuoi questo grano? Lo vuoi un pezzo di grano? Hai fame? Hai fame? Hai fame? Tieni il grano! Aspetta, vado a dargli il grano! Vado a dargli il grano! E continua a fissare a me! Tieni! Oh mamma mia! I cuoricini! Allora Billy, 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 io ho malapena ti tollero, quindi non rimanere a fissarmi per favore perché... Ma ti sto facendo i cuoricini! Sei un po' inquietante, Billy! Allora... È felicissimo lui! Prima di continuare a spaventare i nostri consolini, direi che possiamo iniziare! Allora, siamo alla missione numero 9, dobbiamo craftare una libreria! Esattamente! Allora, abbiamo... Abbiamo... Siamo rimasti tipo... Con il server aperto, fermi qualche ora per far finire le canne da zucchero, dovrebbero essere pronte e ci sono diverse novità che vi faremo vedere tra poco, abbiamo fatto un pochettino di cose... Che probabilmente, mentre ci vedete camminare, state già a notare! Guarda, abbiamo una muraglia cinese di canne da zucchero, comunque... Sì, quello sì, quello sì, quello sì! Allora... Per le canne da zucchero lo sai che ci hanno consigliato di metterle nella sabbia, ma purtroppo siamo senza sabbia, ci tenevo a precisare questo, se la troveremo comunque la metteremo sicuramente, per ora ci dobbiamo accontentare e aspettare che cresca, tanto guarda, le tue canzoni sono talmente efficaci che non abbiamo neanche bisogno della sabbia, insomma! Ci siamo capiti subito! In ogni caso ne abbiamo preso 28, quindi sinceramente credo che canne da zucchero non ce ne servivano mai più e che anzi ci potremmo addirittura fare le torte per fare i mangioni anche sulla Sky Grand! Ah, questo sì che mi piace, vedi, questo approvo, approvo davvero al 100%! Allora, torno in casa perché devo vedere se mi ricordo esattamente come si fa, secondo me era una roba del genere per fare la carta, aspetta, aspetta! Prova a mettere, ecco, ecco così! Ce ne servono 9, ok, quindi queste ce le possiamo conservare, con queste dobbiamo fare così e mettere uno di pelle qua, ma ne abbiamo abbastanza pelle? Non lo so! Dobbiamo fare una cosa bruttissima! Vai a fare il lavoro sporco! Vai, 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 muoviti! E dovrebbe essere tipo ta, 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 ok? E il libro in mezzo, giusto? Ta, ta, ta! Sì! Andata, andata! Abbiamo completato la quest numero 9! Leggi la prossima! Numero 10, crafta una spada di diamante! È bellissimo, iniziamo a vedere i primi diamanti! Esatto! Sono felicissima! Allora, prima di andare, dove vuoi la libreria? Qua! Eh, ci sta malissimo! No, è bellissima! Vabbè, dai, lasciala lì, lasciala lì! Bellissima, bellissima! Sembra fatta apposta per stare lì! E comunque è carinissima, io adoro il blocco della libreria su Minecraft, mi piace davvero! A me mette allegria! Anche a me mette allegria perché tutto colorato mi è sempre piaciuto un sacco, infatti sono felice, sono felice che almeno lo possiamo avere nella nostra casetta! Allora, un attimino, sto facendo un attimo uno spuntino! Allora, non sto guardando niente, sto aspettando te per andare a vedere la nuova isoletta! Ok, andiamo, 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 andiamo! Secondo me sarà... Ma che carina questa nuova isola! Ed è lontanissima! Vabbè, per fortuna, perché... C'è uno spawn! Rischiavamo che ci spaccasse di nuovo la casa! È lontanissima! C'è uno spawn! Ho visto, ho visto, sì, 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 sì! Allora, per ora facciamo una stradina momentanea, ok? Ok, ci sto! Giusto per andare a vedere com'è la situazione, per capire cosa tutto c'è in questa nuova isola! Beh, di sicuro ci saranno dei diamanti! Ebbè, di sicuro, altrimenti come accidenti facciamo la spada dei diamanti! Però è molto bassa! Eh, che ti devo dire? Credo che dobbiamo fare con calma qua, lo sai? Che ne ho fatto bene! Mentre lei crea le sue spade, io facevo già vedere le spawn! Allora, una qua, si scende da qua dove avevamo la finestrella, si segue questo ponticello e come vedete ci sono gli scheletri là pronti, incastrati, non ci possono attaccare. Noi clicchiamo a tasto sinistro all'infinito e loro muoiono, quindi nulla di più semplice! Fantastico! Da quella parte possiamo fare bomial, semini, polletti e misaterra, quindi nulla di troppo utile! Mentre in questo qua, dove si scende da queste scalettine qua molto belline... Esatto, l'abbiamo fatto molto carino anche il basso dello spawn! Questo è molto più utile, ragazzi! Allora, farmo qua! Questo è molto più utile perché, sì, infatti rimani a fare questo perché ci dà sia coal, sia ferro, quindi sono materiali... E anche cobblestone che comunque fa comodo, quindi sono tutti i materiali più utili e lasciamo ferro i nichi qua, ok? Sì, rimarrò qua, non si sa per quanto tempo, però è davvero comodissimo, io adoro questi spawn ormai! Mentre continuano ad esserci i lavori in corso, credo che ormai li avete sentiti da una vita e mezzo, ragazzi! E purtroppo anche noi li sentiamo ogni mattina svegliandoci col mal di testa, purtroppo! Comunque, mi vendicherò su questi mob, capito? Non lo posso fare nella realtà, mi sfogo sui mob! Va bene, va bene! Uccidendoli tutti! Uccidi tutto, allora! Allora, ti devi costantemente guardare le spalle, io inizio a picconare l'isola! Ok, vada! Quando scendono gli scheletri, li massacri di botte! Sono fortissima! Perfetto! Guarda, un altro qua! Uccidilo! Muori! Uccidilo! Dove sta? No, aspetta, sta facendo il giro, scusi! Venga ad affrontarmi! Venga ad affrontarmi! Possibilmente, ecco, vedi, sei stata maledetta, vedi che stai subendo danni! Ho i cuori neri! Te l'ho detto! Manzo! Dovremmo prenderci il latte in questo caso, giusto? Non so se funziona anche per questo tipo di maledizioni Il latte tecnicamente elimina gli effetti che ha il nostro personaggio Dovrebbe eliminare anche questo, anche se poi dura davvero poco Dura poco, dura poco, non c'è bisogno L'importante è essere ben nutriti, capito? Sì, infatti ho mangiato subito una bistecca Fare la colazione della nonna Anche il pranzo e la cena della nonna Perché così almeno ti rimetti in cesto Lo smettiamo Ammazza gli scheletri Comunque ti dicevo, cerca di non farli cascare di sotto, questi scheletri Perché credo che abbiano una possibilità bassissima di droppare diamanti Eccolo! Uccidilo veloce dietro di te! Dov'è? Dov'è? Lì! Oh, scusami! Cioè, non solo l'hai buttato giù Ma mi hai dato un colpo di spada Scusa, mi fai dietro di te e mi son girato La prima cosa che ho visto eri tu Io per istinto ho dato un colpo Scusa Mi dici dietro di te e ti metti dietro tu di me Io non ho parole No, non ho io parole, guarda Allora, sto cercando di aiutarti almeno con la terra Sto cercando di eliminarla Che tanto Oh, aiuto, aiuto Che succede? Cilenti a te Non cadere Vieni qua Ok, brava, ho un colpo la voce Diamante! Sì! Oddio! Non devo morire, non devo morire Eccolo l'ho buttato giù, non me ne frega nulla Allora, allora Aiuto, aiuto Ci serve un piano di fuga Allora, no, non posso morire in nessun modo perché ho un diamante Avevi ragione, comunque non l'ha possibile Quello che casca da solo Hanno la possibilità di droppare il diamante E l'abbiamo trovato Uccidili! Fantastico Uccidili! Però non mi devi far morire Cioè, devo far piano perché ho paura Ok, torna su e vattene Aiuto, dietro! Aiuto! Aiuto, no, non posso morire Allora, lo butto giù, non mi interessa Vattene, 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 torna a casa Aiuto, aiuto Torna a casa senza di me Uff Che ansia! No, io torno anch'io a casa Allora, devo depositare il diamante È la cosa più importante di questo mondo Billy sarà felicissimo Vattene, io lo faccio vedere Cosa ci fa un creeper? Billy, guarda cosa abbiamo trovato Guarda il creeper che vola di sotto Ma sta succedendo il degrado qua Ci stavo combattendo io Billy, guarda cosa abbiamo trovato Ma a Billy interessato il degrado Possiamo farti l'armatura in diamante, Billy No, non gliela facciamo Billy, ti possiamo riempire di diamanti Non illuderlo quando non possiamo fare certe cose Guarda come è felice Come mi fissa con il diamante Perché lo stai illudendo, poverino Ha detto che gli piacerebbe L'intera piattaforma tutta in diamante Capito? Certo Tutta la brillucicosa Il collare in diamante, capito? Torniamo a picconare il nostro diamante Oh, le Su, 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 su Oh, mamma mia Stavo tenendo premuto il riscatto di picconare lo spawn No, fai attenzione, aiuto Ho rischiato tantissimo Sei davvero matto, guarda A prendere sti rischi Ho fatto Creo, creo, creo Pronta a vedere la nuova isoletta Tu sei direttamente lì, eh? Sì, sì, sì Dove appare, dove appare? Non lo so Ah no, aspetta Poi devo prendere anche il blocchettino di diamond Ok Pronta? Sì Nuova missione Non so perché ho messo questo qua Oh Shbim Ok, completata Dov'è? Dov'è? No L'ho vista, l'ho vista Dimmi che non ci tocca No, sto andando a vedere Perché sono Dimmi che non tocca No, è giusto, giusto Aiuto, che fortuna Allora Spada di diamante è completata Ho già visto cosa c'è dentro Mi fai dire le mie cose tutte enfatizzate? Sì, vai, vai Siamo alla quest numero 11 Crafta un enchant table Ok Ok, 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 ok Dicevo che ho già visto cosa c'è in quell'isola Cosa c'è? Ossidiana Per fare il portale per andare nel nether Ma davvero? Questo vuol dire che per prendere l'ossidiana Dovremmo per forza Piccona Fare un piccone in diamond Per fare il piccone in diamond Vuol dire che dobbiamo trovare altri due diamond da questi scheletri Quindi Quindi dobbiamo assolutamente sistemare anche questo spawn È troppo tamarro per avercelo in casa Ma io pensavo più a questa cosa, capito? Quale? Questo dark, questo più scuro, guarda Mi fa ridere il fatto che stiamo scegliendo i pavimenti Vai Mi fa molto ridere come cosa, un secondo Vediamo questo come ci sta Vedi è già un po' più sobrio Ma sembra da bagno E allora quando avremo un bagno ci metteremo quello, va bene? Ok Tutto dentro che mi deve far sempre arrabbiare questo qua È davvero Io non ti faccio arrabbiare Ma io me ne vado via Ma dove vai? Me ne vado via Dove stai andando? Da Billy Billy? Non accettarla Billy, mettiamoci qui insieme E lasciamolo perdere Lasciamolo perdere Lo stavi tanto criticando, Billy Ma vedo che ti sei affezionata facilmente alla fine Sì, perché alla fine cerco di prendere gli animali domestici E renderli dalla mia parte No, Billy resta la persona della mia di parte Allora, ho deciso che mi coalizzerò con lui Per essere contro di te Perché ok, che stai combinando Ok, che dobbiamo collaborare Ma non è che possiamo andare troppo d'accordo Cioè, non ci allarghiamo Ascolta Non facciamo troppe cose assieme Non mi provocare che t'ammazzo Non ci provare, guarda Guarda che ti do uno schiaffo Allora, guardaci Facci un selfie Ti prego Billy, Billy, che ti succede? Vieni fuori Vieni fuori Dice che non ti piaci Faccio un selfie Che il recinto è solo suo Non te la faccio la foto Arrenditi Vattene da lì Facci un selfie a me, Billy Lascia in pace, Billy Vieni via Dai Aia Attraverso la finestra Così impari a non farci un selfie Billy si è offeso Ti chiudo la porta Allora Sì Ci stiamo Sì Ci fermiamo così, ragazzi Per questo video Per il prossimo video Prepareremo tutto lo spawn E credo che direttamente Prenderemo i diamanti Perché non credo Che ci sia nulla di divertente Nel vedere ci ammazzare i mostri Per tipo un'ora e mezzo Fino a quando Non daranno Quei due diamond A quel punto Entreremo nella parte Proprio finale Sarà difficile Però siamo pronti Più che altro Fateci sapere appunto Nei commenti Se abbiamo capito male Per il marmo O se abbiamo sbagliato Giusto qualcosina Il procedimento Perché questo tipo di blocchi In effetti Non siamo abituati Ad usarli nella vanilla Perché tendevamo a fare Le casette Proprio dei bambini poveri Noi quelle con Esatto L'abbiamo detto L'abbiamo detto Proprio Fantasia zero Fateci sapere nei commenti Se ce ne avevano scritto Una cosa che non funziona O se abbiamo sbagliato noi Per il ragazzi Vi piace così Se ci è giusto Ascettaci ma il like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao